oggi è l'ennesimo video di giornata guardate qua tutti i mezzi trasporto bestiame guardate qua guardate qua c'è un inter regionale mi pare si chiami delle reine adesso vado a intervistare un po di amici allevatori non farò il video nei momenti che combattono perché poi youtube mi censura per violenza quindi parlerò con un po di allevatori i meccari tuo papà dov'è? al bar secondo me andiamo al bar ciao allora sono venuto a trovarvi mi mancavate già due mesi che manco ma adesso ho un po di casino poi arrivo mi fermo qua da voi un mese mettiamo le mance fuori facciamo più di tutto ora comunque stiamo al bar andiamo a trovarlo non lo vedete col bicchiere di birra in mano non si smettisce mai non si smettisce mai ma è giusto no ma a te devi bere col barilotto non con la mezza hai già fatto con lui un lupo stamattina? no no l'ho trovato già così mi hanno tolto il lavoro da dove esci? esco dal camion là ecco 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 adesso chiudo mi offrirai almeno una birra o no? ok no 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 dai quando vedo biondo ma cosa ha fatto figlio? è arrivato mi hanno già contrassegnato con il terretto della battaglia delle rete mi manca qui un mio amico zero questo è uno dei nostri è un nostro allevatore di quelli storici ma tu che tantatré è bene questo è un duro eh una ragazza che non la conoscevo più qua c'è il presidente del comitato dei manzi qui Matteo Giacomo dice qualcosa di questa le impressioni di questa battaglia noi non siamo solo agricoltori siamo gente che fa altre cose che ci espandiamo che facciamo la battaglia dei manzi facciamo un po' di macelleria cassa edile noi ci fermiamo come Stefano solo agricoltore siete da ammirare poi non bisogna prendere esempio da questo personaggio io ho tre figli e questo è il quattro figlio io voglio un mondo di bene solo una cosa che manca per il pubblico deve solo un po' calare perché mi fa paura è meglio averlo amico che ne amico la mattina alle quattro e mezza sono calato dal letto bravo bravo e se no nessuno ti museva lì no comunque la giuria tra le sangue di Dio ciao buon proseguimento continuate così grazie noi siamo già a due bicchieri e ora la canna il 26 Michael dove dove senti un po' le ucchietti e poi andiamo andiamo e poi andiamo e fai il video eh dagli il mio numero intanto sta andando alla grande sono qua nella come si chiama qua la zona ciao Giuseppe vieni qua vieni qua aspetta lui sta ah ma è Margirà abbiamo interrotto un po' perché è un po' di diretta di qua un po' di là lui è Giuseppe Zeldì Telecombatte sì vi raccomando tutti gli amici di Giovanilla Mula di Deggio Mula di Deggio Mula seguiteci su Telecombatte cercasi amore tra le alti è bellissimo simpatico ci sono delle ragazze una ragazza cubana che è ora due puntate lunedì alle ore 20 Telecombatte però ci sono anche i video già sul canale giusto telecombatte bravo Giuseppe ho trovato Luca Turini ciao Luca di chi sei Armando sono papà ah ok Turini allora vengo a trovarvi un giorno con la mula eh perfetto guarda che fumo qualcosa di bello dai 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 cantiluna un'allegra dai un'allegra dai a lei dai 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 arriva la volante non c'è nessuno in Italia 1 Deggio la mula non vuole farsi riprendere però mi conosce allora dai dai che guarda tutti i miei video si 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 è un fan e hai visto il zinger con i capelli perché se filmo se filmo se filmo l'ho lasciato a casa se filmo la battaglia poi youtube mi censura no no ma dovete riprendere lui perché lui ha fatto un fan che è il video più bello che fai tutti belli grazie un altro ragazzina la mamma mi diceva che lei è andata su pioggia l'anno scorso a Europa anche lei ciao ciao io non mi ricordo conosco talmente tanta gente salutate pioggia che è a casa stasera glielo faccio vedere ciao anche tu ciao ciao un personaggio che mi conosce con una barba così chi sei tu ciao presente te si di romella è stato sì dal posto no però sono sì dal posto ah boh boh hai visto sì che fuga un po' dei video con i conoscenti oggi solo conoscenti ciao tutto bene tutto bene è da stamattina alle tre che sono in giro ho già fatto Val d'Aias adesso sono di qua guarda i video stasera ciao ciao Davide come va lei è passata o no allora tutto a posto ti sei spiegata bene io lui lo conosco le dite che ti è stremmesso sono tutti i manzi che provano il combattimento combattimento per modo di dire è come il pugilato per gli umani che un box non si fanno assolutamente male quest'anno già fatto i pugilatori ce ne è uno con il raffio sono tutte perfetta perfetta ma se ti vedono gli animalisti dicono ma che triste ma che vadano a fare il culo gli animalisti vero? la dimmi chi è questa? vanta vanta ma che bella che bella quante avete qua siete più numerosi senz'altro c'è il premio per i più numerosi queste sarebbero le reindeer che combattono vedete quanto sono aggressive che bella che è? allora, vale gentile a posto? ciao! ma io viva conosce tutti però è difficile conosce tutti e qua l'erede non ti conosciamo più continuo il mio giro ciao ciao hai già qualche premio o no? siamo lì con questa sono passate allora ti seguo adesso ancora ti va giù contro il Francesco contro lui come ti chiami te? e segui i miei video ma ti piacciono? hai anche delle aziende che casino che c'è qua hai anche delle mucche? mangi tre anni allora vengo a trovarti un giorno in azienda ma scrivimi su youtube ciao 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 pasticcio e pasticcio peppo sì quanti anni ha qua il piccolino quanti anni ha il piccolino? scappato non ti considero? c'è Stefano che sta spostando un mango è la prima volta che lo vedo al lavoro bellissimo pesa doppio lui della buca o tre volte o il mangetto è piccolo o lui che è grosso adesso quando arriva Stefano sarai stato ripreso che sposti una mangia abbiamo commentato il tuo peso con quello della mangia Stefano saluta qua gli amici di youtube siamo di nuovo gli ultimi quando arrivi di nuovo al rifugio peccatori? ci vediamo prossimamente ciao 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 la moglie adesso vai a cercare stefano bisogna andare a mungere a mungere siamo al ciao ci vediamo dormo poi nel rifugio peccatori ciao ciao ciao